È un 26enne italiano di 90 di Piave, già gravato da alcuni precedenti di polizia, il presunto autore della rapina commessa poco dopo le 20 della notte di Capodanno in via Aquileia a Sandona di Piave. In sella ad una bicicletta elettrica, con il volto attravisato da un passamontagna e brandendo un coltello da cucina, il giovane avrebbe avvicinato una 24enne di musile e sotto minaccia si sarebbe fatto consegnare il borsello con all'interno denaro, bancomat, documenti ed oggetti personali per poi scappare rapidamente. I carabinieri l'hanno arrestato la notte stessa grazie all'immediata chiamata al 112 di una passante che aveva soccorso la vittima e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di rapina aggravata a meno di un chilometro dal luogo del fatto.